Eder. Mech. Pallister. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra Viale della Resistenza e Via Liguori, dove una 41enne residente a Marzocca stava guidando una Volkswagen Passat. La polizia locale e la procura stanno indagando sulla dinamica dell'incidente. Il mezzo coinvolto nell'incidente è stato posto sotto sequestro dal PM di turno. Eder. Mech. Pallister.